Oggi voglio parlare di un videogioco di un ragazzo che conosco da un bel po' di tempo grazie a questa community Vediamo cosa ha fatto Ahahah, Samuel Shaka Ormai ti ho preso il tuo canale YouTube? Eh no, non puoi E perché mai? Perché io utilizzo NordVPN E che cos'è sto NordVPN? NordVPN renderizza il tuo traffico internet attraverso un server remoto specificamente configurato Nascondendo il tuo utilizzo IP e criptando tutti i dati che vengono inviati o ricevuti Sì vabbè, in italiano? In italiano puoi stare veramente tranquillo se usi soprattutto wifi pubbliche oppure semplicemente se navighi su internet Vabbè, è tutto a un prezzo però, quanto vi viene a costare? Ti basta semplicemente cliccare il link che trovi in descrizione e soltanto con 3 euro al mese puoi avere anche tu una VPN sul tuo computer o sul tuo telefono E inoltre con il codice coupon SAMUSHAKA ottieni anche due mesi in più gratis Quindi, beh, se vuoi, link in descrizione Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Meno male che ho NordVPN come avete visto, ci è mancato veramente poco Oggi come ogni venerdì voglio parlare della serie I vostri videogiochi Vi basta semplicemente compilare il form che trovate sul sito, che trovate in descrizione per mandarmi un vostro videogioco Oggi parliamo del videogioco di Vincenzo Striano che ha realizzato questo videogioco qualche settimana fa Pubblicato sul gruppo Facebook che lui richiede sempre dei feedback Quindi mi raccomando, sfruttatelo così questo gruppo Oggi vediamo il suo videogioco perché secondo me può ancora migliorare Ha fatto veramente un ottimo lavoro, però può diventare un po' più figo questo videogioco Quindi diamogli delle dritte a Vincenzo Striano per migliorare il suo videogioco E fategli sapere anche la vostra qui sotto con un commento o da qualche altra parte Anche sul gruppo Facebook Vediamolo! Eccoci qui finalmente a provare il videogioco di Vincenzo Striano Lui ha realizzato questo videogioco Pendle che ha pubblicato proprio sul gruppo Facebook Trovate il link in descrizione E questo è il suo sito internet, legacystudio.net Potete provare il suo videogioco proprio nel link che trovate in descrizione Allora, molto interessante, lui ha caricato il gioco sia su GameJolt Infatti se io clicco su questo link mi apre direttamente la pagina di GameJolt Dove mi chiede mille cose, però va bene Quindi molto interessante l'ha caricato sia lì che anche sul suo sito internet La cosa importante di GameJolt è che la gente può commentare Poi grazie anche a Francesco Iafulli che ringrazio sempre per il supporto che dà alla community E per il tempo che dedica alla community Sta creando adesso Francesco un plugin per collegare la classifica a un GameJolt Quindi più avanti magari vi farò vedere come caricare un videogioco su GameJolt E magari anche utilizzare la classifica che sta creando Francesco Iafulli per noi Fatemelo sapere con un commento qui sotto Pendle è un videogioco realizzato da Vincenzo In circa 10 ore più 2 ore di update Ha inserito successivamente il tutorial La cosa importante che fa Vincenzo è sempre chiedere feedback proprio all'interno della community Facebook E migliora sempre di più il suo videogioco Ma clicchiamo il bottone play per vedere appunto questo suo videogioco Clicchiamo sul bottone play game Vediamo un po' come si presenta Sono molto molto curioso di provarlo Ecco come si presenta Guardate qua questo effetto particolare Clicchiamo su credits Vediamo quello che succede Allora Lui ha questo vizio Di inserire all'interno dei videogiochi Che appena tu clicchi Si deve mettere subito full screen E questa è una cosa che sconsiglio Per il semplice fatto che l'utente sta cliccando all'interno del gioco Ma non vuole mettere il videogioco full screen Non è detto che vuole farlo Quindi quello che consiglio è sempre mettere il bottone full screen separato Magari metterlo proprio da un'altra parte Quindi se l'utente non vuole giocarlo full screen Perché io appena clicco la prima volta sullo schermo si deve mettere full screen Questo è molto importante Clicchiamo su credits Vediamo quello che succede Clicco su credits Ma non succede niente Clicco su tutorial e parte tutorial Quindi credits non funziona il gioco Comunque è ancora in fase di sviluppo Allora la prima cosa che possiamo vedere appunto nel tutorial È che c'è scritto tap e hold for fly mode Hit the wall with one shot Quindi con un solo colpo Però il nostro personaggino qui sta scendendo sempre di più Non penso sia dovuto Ecco appunto che si riselta il tutorial Ottima questa cosa La gravità lo spinge verso il basso Ho aspettato un po' per giocare Guardate che figa questa cosa del tap e hold e hit Cliccato in giallo che sono gli obiettivi Io tengo premuto Vediamo quello che succede Ok Però questa cosa del tutorial non funziona bene dal mio punto di vista Perché tipo adesso sto cliccando e tappando e non va Devo prima cliccare sullo schermo per togliere la scritta E poi giocare Questa cosa non mi piace Visto clicco di nuovo all'interno E poi posso di nuovo giocare Questa cosa non mi attira molto Vediamo Ok ho perso Riclicco di nuovo all'interno del testo E poi posso rigiocare Ok Ce l'ho fatta Questo gioco è veramente molto figo L'avevo già provato Perché aveva pubblicato un post su facebook Quindi volevo dargli una mano Vediamo appunto Torniamo indietro Ecco che inizia la modalità Allora quello che dobbiamo fare intorno del gioco è molto semplice Abbiamo questo pendolo Che è veramente una figata Anche il concetto mi piace tantissimo E quello che dobbiamo fare è prendere questi punti gialli Quindi collezionare questi premi Il più possibile E quello che vedremo più avanti Che c'è questa barra in alto a destra Che diminuisce sempre di più Possiamo anche prendere queste clessidre E quindi quello che succede è che il tempo ovviamente aumenta Unico grande errore secondo me Che poi non c'è un errore però Non so se ci avete fatto caso prima Ma quando c'era appunto la scritta in mezzo Praticamente per togliere la scritta Bisogna proprio cliccare in quel punto Secondo me va specificata questa cosa Però semplicemente anche se clicco da altre parti La scritta va via E' veramente molto molto figo questo videogioco E mi è piaciuto veramente tanto Sia l'effetto che ha voluto dare Anche questo effetto un po' pixelato Questi oggetti che hanno un po' questo bagliore esterno Ha inserito degli effetti Che noi attualmente non abbiamo ancora visto Proprio qui su YouTube Ha utilizzato Construct 3 Lui ovviamente non ha utilizzato la versione gratuita Ma mi piace troppo l'effetto Che si ha anche quando si prendono questi oggetti Questi piccoli box gialli La cosa stra interessante anche Che secondo me andrebbe un po' migliorata E' che quando ad esempio prendo un piccolo blocco sulla destra Che va a spawnare sulla sinistra Non nello stesso punto Infatti come avete visto qualche secondo fa Contemporaneamente 3 blocchi Sono andati a spawnare proprio in quel punto Una volta raggiunto il game over Ecco che appare un messaggio Con scritto appunto Grazie per aver giocato al videogioco Seguici su GameJolt Abbiamo bisogno del tuo supporto Per completare questo videogioco Riclicchiamo Torna nel menu principale Quindi ottima questa cosa Non c'è la possibilità di disattivare E attivare l'audio E non funziona neanche il credits Molto strano Perché comunque Vincenzo Specifica sempre qualsiasi cosa Però è comunque una piccola demo completa C'è anche questo da dire Rigiochiamolo Perché mi piace anche tantissimo Questo effetto che ha prudenzire All'interno del gioco Questa transizione Dove ci sono appunto Tutti gli oggetti che scendono E fino a quando noi non prendiamo il primo blocco Non parte il timer Mi è piaciuta questa cosa Veramente molto molto interessante Se vi piacerebbe vedere anzi Come ha fatto Vincenzo questo videogioco Scrivetelo con un commento qua sotto Che magari gli facciamo fare un post interessante Sul gruppo Facebook Quindi mi raccomando fate un salto Mi piace anche il fatto che Quando io vado a prendere il primo blocco Il timescale del videogioco Si rallenta Guardate che figata Quello che vi ho detto prima Se clicco a sinistra funziona Quindi forse mi sbagliavo Funziona Basta cliccare semplicemente In qualsiasi punto Però come avete visto Per adesso io non sto giocando E sto prendendo punti Questo perché appunto Lo spawn è talmente raddomico Che può succedere appunto Che l'oggetto che dobbiamo prendere Può capitare vicino a noi E' veramente molto molto figo Perché ha fatto anche un'altra cosa Se noi usciamo fuori dalla mappa Lui risale Quindi ha sistemato questa piccola cosa Guardate un po' Poi gli effetti particellari Semplici Che però funzionano Sono queste le piccole cose Che rendono anche un videogioco Piccolo interessante Il consiglio che do a Vincenzo Striano Per poter migliorare questo videogioco E investi un po' di soldi in pubblicità Pubblica questo videogioco Nei vari App Store Play Store E così via Metti delle skin Qualcosa che effettivamente Permette all'utente Di poter rigiocare Anche una classifica E secondo me Il gioco ha Un potenziale interessante Anche se A dire il vero Io forse L'avrei fatto verticale L'avrei fatto verticale Perché dal mio punto di vista Questo gioco verticale Potrebbe avere più successo Anzi Una cosa che si potrebbe fare anche Se si vuole fare orizzontale O verticale Indipendentemente da Indipendentemente Dalla modalità Appunto Di visualizzazione Del videogioco Più modalità Se avete presente Color Switch Quel videogioco Nasce con un concept Molto interessante Bisogna toccare Per far salire questa palla E questa pallina Di un determinato colore Deve passare in mezzo Ad altre palline Di altro colore Adesso Burgo Vi sta facendo vedere Appunto Il gameplay del videogioco Mi raccomando Burgo Mettilo Una cosa interessante Che ha fatto lo sviluppatore Di quel videogioco Quando ha ottenuto Un determinato successo Ha creato diverse modalità Immaginiamo ad esempio Che grazie a questo movimento Quello che dobbiamo fare Ad esempio Raggiunge una posizione Sempre più alta Quindi quello che dobbiamo fare È salire sempre di più In alto Magari avendo anche qui Un tempo limite Quindi immagina Vincenzo Di creare proprio più modalità All'interno di questo videogioco E le modalità Sono la cosa molto molto figa Che poi rendono Un videogioco mobile Rigiocabile Quindi collega questa cosa Rigiocabile Mi è piaciuto veramente tanto Questo videogioco Si vede l'impegno Si vede che effettivamente È realizzato un qualcosa di nuovo E Vincenzo Ha sempre queste idee innovative Non si limita A copiare Dei concept già esistenti Ma cerca appunto Di innovare sempre di più Dal punto di vista della fisica Non gli si può dire niente Ha fatto veramente Un ottimo lavoro Mi piace tutto di questo videogioco È veramente molto E molto interessante Lo stile utilizzato È molto molto bello Quello che consiglia appunto questo Più modalità magari Perché mi piace questo fatto Che questo protagonista Questo personaggio Che non è un personaggio Ma questo oggetto Si muove così È proprio Il concetto chiave Del videogioco Secondo me potrebbe essere utilizzato Anche per altre modalità Molto molto interessante Si potrebbe fare anche Che ne so Una piccola modalità multiplayer Con questo videogioco Si può fare veramente La qualunque Poi interessante Anche la clessitra pixelata Così Gli effetti particellari Lo score Ci sta Anche la semplicità Di mettere un colore normale Grigio Con questa cosa Che risalta Questo giallo È perfetta Secondo me Lo stile grafico Non si può toccare Consiglio veramente tanto Di vedere gli altri Videogioco Che ha creato Vincenzo Che porteremo di nuovo In questa serie Adesso magari lo portiamo Tra qualche settimana Giusto per non dargli Troppo spazio Perché dal mio punto di vista All'interno della community Sviluppare giochi Di chi conosco È tra i più bravi Complimenti veramente tanto Fatemi sapere con un commento Qui sotto Cosa ne pensate Di questo videogioco Diamogli il supporto Necessore a Vincenzo Per poter migliorare Questo videogioco Mi raccomando Prova a pubblicarlo Sul Play Store e App Store Sarà veramente uno sbatti Pubblicarlo per diversi problemi Specialmente se puoi pubblicarlo Per dispositivi Apple Però secondo me Una volta che lo fai Hai imparato E sei a posto Inserisci credits Possibilità di disattivare Attivare l'audio E poi vedi tu Ci sono veramente Un'infinità di cose Che si possono mettere All'interno di questo videogioco Complimenti veramente tanto E niente E poi guardate qui Anche il cursore Con questo piccolo più Veramente Veramente un tocco di classe Complimenti E mi raccomando Disattiva questa cosa Che per il full screen Basta cliccare ovunque Devi assolutamente toglierla Come avete visto ragazzi Questo era il videogioco Di Vincenzo Striano Fatemi sapere cosa ne pensate Con un commento qui sotto Ma soprattutto Fateglielo sapere a lui Perché ovviamente Ci sta lavorando Sia questo videogioco Che ad altri videogiochi Che ben presto Porteremo di nuovo All'interno di questa nuova serie Vincenzo Già qualche mese fa Ci aveva fatto vedere Qualche suo videogioco in 3D Fatto in Unreal Engine Potete trovare Il link in descrizione Del vecchio episodio Dove avevamo parlato Di un suo titolo Io spero che questo video Vi sia piaciuto E per tutte quelle persone Che si stanno chiedendo Ma Samuele Questa serie finirà mai Non credo Perché è una delle serie più fighe E mi hanno mandato Talmente tanti giochi Che voglio assolutamente portarli Anzi Mandatemene sempre di più Ci saranno alcuni Che scarto ovviamente Per x motivi Però è una di quelle serie Che spero di non mollare mai Fatemi sapere con un commento Qui sotto cosa ne pensate Se vi è piaciuto questo video Vi invito di lasciare Un bel pollicione in su E se volete rimanere Sempre aggiornati Mi raccomando Cliccate il bottone iscriviti Vi ricordo che in descrizione Trovate anche i link Ai videocorsi Completamente gratuiti E ci vediamo quindi domani Con un nuovo video ragazzi Ciao 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 Grazie.